Ciao ragazzi, ciao a tutti da Daniele Andrea no praticamente oggi non volevo fare questo video, ormai con le oggi non volevo fare questo video, ho già detto perchè non volevo fare questo video? Visto che in questo periodo non ho fatto video 3 mesi senza video, oh mio dio volevo tornare con la serie di Pound of Salem ma non sapevo se voi eravate d'accordo se potete datemi dei consigli credo che non arriverò neanche a due commenti ma neanche a uno non arriverò a commenti ragazzi perchè io non ho iscritti, no ne ho 71 ragazzi e vi ringrazio ragazzi già che ci sono dei 70 iscritti se arriveremo a 100, cosa impossibile anzi cercherò di fare uno speciale e ragazzi in questo periodo ho tante novità una delle grandi novità è che sto girando in questo periodo da League of Legends a Steam in questo periodo ho tantissimo a Steam ho dei diri, io lo so prendo ah ecco, faccio vedere i miei giochi andiamo su Steam come vedete ho intorno a me scelto anche allora Counter Strike Global Offensive Dark Messia Counter Strike Global Offensive credo lo conoscete tutti Dark Messia questo giochino sembrava che li erano perdono gratis tipo di error è la demo demo bene poi DayZ comprato Gary's Mod Gary's Mod comprato Isos and Generals motherfucker che non ho giocato dopo di 13 minuti sono stato FK poi Canyon Lynch Dog Days ci ho giocato 95 minuti fa schif- a me non piace fa schifo per me level 22 abbastanza 90 minuti questo loadout ci ho giocato tanto a loadout strano Minecraft Minecraft l'ho messo su Steam poi qui Mountain Blade Payday 2 ma ragazzi Payday 2 dovete venire 8T achievement poi The Hunter giochino gratis Tomb Raider Tomb Raider Tomb Raider Tomb Raider mi dispiace giocato mio fratello Toribash un Turned un Turned ragazzi se non conoscete un Turned siete proprio il degrado se uno non conoscete un Turned proprio il degrado ma il degrado forte veramente il Toll DJ è Warface la serie che volevo fare la volevo fare su DayZ ragazzi è già DayZ ragazzi io non mi voglio allungare troppo perché se no il video diventa troppo lungo da Minecraft è tutto ciao a tutti bella